Ciao a tutti, sono benvenuti in questo nuovo video, oggi è qui. Eita, dove sta Alessandro? Dove sta Ale? Ma dove stai? Vabbè. Allora, stavo vedendo che stavo giocando questo gioco, ma ho deciso di farsi un video. Allora, stavo vedendo che stavo giocando questo gioco, ma devo cliccare qui? Vabbè. Allora, stavo vedendo che stavo giocando questo gioco. Ok. Ma si è bagato tutto la tua stia. No, perché si è rotto la tua? Ok. Così che si deve fare qualcosa alla tua schiera. Sempre. Sempre, 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 sempre. Ma veramente? E ora che si carica? Ma ci mette così tanto? Ma prima non si voleva così tanto. Oh, ecco, ecco. Fatto. Allora, si carica. Qualità. Ecco. Ma... Ma è cambiato gioco? Ma... È cambiato completamente gioco. Ma è un altro gioco, ma... Ragazzi, dovevo fare un video e mi ha cambiato il gioco. Sta giocando? Oh, mi sto giocando. Ma saprei tutto perché mi ha mandato il mio gioco. Ma non lo so utilizzare. Allora... Forse, tipo... Eh, però non si... Oh, non si è rotta la tastiera. Ok. Raro! Che cosa dieci per cento? ok Allora, prima di tutto facciamo un sacco Allora, un'ora dopo, due ore dopo, tre ore dopo, quattro ore dopo, cinque ore dopo, sei ore dopo otto ore dopo, nove ore dopo, dieci ore dopo, undici ore dopo, due ore dopo Allora, un'ora dopo e due ore dopo Allora, un'ora dopo Allora, un'ora dopo Allora Allora Come due... 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 due mila di nascita, il reberto? Come due... due mila di nascita, il reberto è quello che noi fanno... Rubinetti... Rubinetti in treno, così... Allora... Facciamo subito il reberto... Allora... Come si fanno ad aumentare i reberto? Aumentare tipo il tasto dei reberto, altrimenti ci vuole tipo... tre mila anni... Allora... La classifica si muove tutta! Ma non riesco a leggere! Allora... Ma che cosa? 9,54... E più due... 21... Allora... Ho... Se... 32... No... 32... No... Come reberto... Ecco... Allora... Allora... Ok... Vedere... E... 12... 49... Proccio... In.... E... Da... E... Tantissime... U... E quindi... Io noi spavaro... Allora... allora oh mio dio ma quando mi faccio veloce vai date mi puoi mi puoi mi puoi già vabbè oh mio dio oh mio dio sto facendo troppi le berche ma qua chiaramente si sembrano giubinetti ma sono i click allora ragazzi sto diventando ultra forte ragazzi guardate c'è il problema ci volevo un sacco ad arrivare un po' ad arrivare a ville c'è due 50k di nascita e che zilli ah aspettate che c'è il po' è critico oh mio 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 dio 41 41 ma sentite guardate io ho spiace dovevo fare un reberche e mi togli tutto ah rimasti stai dicendo allora andiamo tac 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 no non devo fare tutto il giorno tipo fare tap 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 allora sto registrando le 9 minuti l'unica cosa l'unica cosa triste che avevo che ho promesso di registrare 10 minuti quindi 10 minuti sia no 10 minuti no 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 devo contrassegnare aspettate se più il l'unica cosa che è l'unica cosa mi è 1 è 1 2 1 2 1 2 2 3 2 tenendo il resto ora che dovrebbe tipo andarmi oh ma mi fai ecco come vi ho detto 51k ok 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 oh mi perdue rubini oh 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 è partibile ora è partibilissimo aspetta robux i neti totali non ho spesso niente aspetta come leggo come leggo ma dove stanno le gozze forse le gozze di lacche il tempo è cercato 10 minuti non ho spesso non ho spesso non è vero Ma perchè mi fa fatto volare? Ah, devo rivedicare anche quello prima. Non lo sapevo. Devo comprarmi dei petto. Da direi che il personaggio mi dà i petto. È il più forte. Pensi che ci vuole la flora? No, al quarto. Va bene! e mi dico che per... che per... dai, base come devo... come un... come un... come un... 810 gemme 810 gemme 810 gemme 910 gemme 910 gemme 1010 gemme 1010 gemme 910 gemme 910 gemme 1010 gemme come milioni? come? come? guardate come? ma che è un telebus fortunato sono fortunato mio dio clicker automatico gratuito oh mio dio come 123k allora tatatatatata vi serviamo un mille rebe be 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 sta tutta un mille rebe ma l'isola gigantesca un'ora dopo due ore dopo tre ore dopo quattro ore dopo cinque ore dopo 6 ore dopo 7 ore dopo 8 ore dopo 9 ore dopo 10 ore dopo 2 3 Lada usava la versione Java Ma Dai Che è stato Sto l'olore? Oh mio dio Ragazzi Si mette due anni Uuuu 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 No Allora Allora Ma non so Non so Non so Non so Da qui No Uuuu Oh Come on, keep it. 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 Allora. Allora, prima di tutto... Allora... 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 Allora...